Bella a tutti ragazzi e benvenuti, io sono Fabi... No Bella ragazzi, qui è Stepni No Bella a tutti ragazzi e benvenuti da Mike Show No Bella a tutti ragazzi e benvenuti, ben trovati in questo nuovo video Oggi vorremmo portarvi il canale, ho un altro sketch log Volevo far uscire questo video prima, però vabbè era San Valentino quindi mi sono fatto i fatti miei Quindi chi se ne frega Oggi mi sposto così, guardate l'effetto speciale Ci sarà con me un ospite, un ospite particolare Lei è la mia ragazza 3, 2, 1 Allora, io voglio andare così E io faccio Ma dove mi trovo? Ciao, ben trovata, ben trovata Quindi perché Elisa, ciao Elisa come stai? Ma scusa, è già ti ho fatto Si sta già andando, sta già andando Come stai? Bene, ciao a tutti Con Elisa oggi volevamo fare praticamente gli sketch log Vi portiamo gli speed date Vi lasciamo al video, detto questo Boom baby! Ciao, 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 ciao Come ti chiami? Carina Ah, carina, carina, cognome? Di brutto È carina di brutto Eh sì, e tu? Yuri Yuri Yuri? Ah no, Yuri è da sotto l'anno Ah ok E senti, di dove sei? Di Lausanne Sai dov'è? Certo, nell'alto dei celli no? Eh, che dire di me Mi penso ne so io Ah sì, soffro di meteopatia Cioè? Cioè, quando c'è sole sorrido Perché se no no Ah, ma io invece soffro di meteoismo Cioè? Eh, se c'è vento ti faccio piangere Ah, ho capito Senti, poi è strana la vita È veramente strana Proprio è bizzarra Stamattina sono uscito di casa Sono venuto qua E ho incontrato una perla Ah, pensa un po' Io sono rimasta qui e è arrivato un pirla Vabbè, dai, ciao 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 Ciao, ciao Piacere Piacere, come ti chiami? Marina Di Ravenna Marina di Ravenna E tu? Eh, Golfo di Taranto Ma pensa un po' Sì Ebbene, dai Senti un po' Io ho una passione Anzi, una passionaccia All'arte All'arte, anch'io Anch'io l'arte Anche tu? Ah, io dipingo Io dipongo Pensa un po' Pensa Golfo, golfo Eh Marina Cosa fai scusa nella vita? Eh, io, niente Lavoro per una società Società farmaceutica Dai Sì, sì Testo medicinali Sul mio corpo Ormai Dall'età di 18 anni Ma dai Ma che Non pensavo Che lavoro rischioso Un po' Sì Ma scusa Quanti anni hai adesso? 19 Ah Vabbè Io vado, eh Io vado Ah, vai giù via? Sì, sì, sì Comunque se vuoi mi trovi su Facebook Sì Provocazione M Se vuoi mi trovi in farmacia Preparazione H Ok Va bene Ciao 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 Mi chiamo la Virgine E vengo da Milano La mia giornata E Il mio day Inizia con il jumpy E Un piccolo breakfast E Poi subito Al lavoro Workshop Convention Poi Un happy hour E Del sushi con gli amici E Del cine E poi Subito a casa Due tweet E E basta Che tu le aggiungi Tutti Vieni Sono Sara E vengo da Catanzario E non ando a farlo da sola Vai Oh, ehi Oh, ehi Tutto a posto? No No Vuoi che me ne vado? No, non guarda Fa niente Forse non dovevo venire Ecco Ma posso sapere Cosa è successo Guarda Sono appena stata lasciata Forse non dovevo venire Vabbè Guarda Io ho lo stesso problema Quindi Se vuoi possiamo anche parlarmi Davvero? Sì, sì Esco adesso da una storia di tre anni Posso sapere perché? Ma sì Dai Va bene a sto punto Tanto E niente C'erano problemi sessuali C'erano problemi Anch'io Anche tu? Sì Ed è un classico Guarda Il mio ex Riccardo Fa l'archeologo E si è messo Con l'assistente Nuova Cioè Un archeologo Che lavora con cose vecchie E si è messo Con l'assistente nuova Capito? Coincidenza Ma Coincidenza brutta Cioè Posso farti una domanda? Sì Ma La L'assistente L'assistente Si chiama Caterina? Sì La butto lì Sei Marta la frigida? Gianluca Iaculatore precoce Eh sì Sono io Pensa a te Pensa che coincidenza Pensa a te Eh va bene Vabbè Vabbè In bocca al lupo Oh Dio Ciao 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 Piacere Come ti chiami? Marianna Eh sì Mia mamma voleva chiamarmi Maria Mio papà Anna Carina e quindi Marianna Carina Carina questa cosa E tu? Anche i miei erano decisi su come chiamarmi E come te l'hanno chiamato? Baffan stardo Ma dai Ma sei carino però dai Vabbì Eh ma se fai così mi provo Chi provoca una E tu mi turbi Turbino E tu mi invogli In voltina E come stanzi Che stanzi E ma non ti girare Sennò mi ignori Mignotosi Scusi Bene ragazzi Io spero che il video Vi sia piaciuto Quindi lasciate Un bel mi piace Iscrivetevi al canale Suggerite il canale A tutti quanti gli amici Se il video vi è piaciuto Se il video non vi è piaciuto Suggeritelo anche A chi vi sta sulle palle Perché così almeno La fregatura Se la beccano pure loro Da me La patrice E tutto quanto Quindi ci vediamo Al prossimo video Ciao Boom baby